Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Buone notizie sul fronte dei dimessi e dei guariti dal coronavirus nelle Marche. Il numero sale a quota 645, erano 342. E calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva da 139 a 133. Ma nelle ultime 24 ore sono state scoperte altre 149 persone positive. Il riassunto con tutti i dati aggiornati nel primo servizio curato da Francesco Salvago. I decessi odierni registrano 17 vittime per coronavirus, età media 79 anni. Il più giovane aveva 46 anni ed era residente a Recanati, mentre il più anziano aveva 96 anni di Colli al Metauro. Il totale aumenta a 669 decessi dall'inizio della pandemia dal virus, 6 le vittime extra-regione. Nelle ultime 24 ore i laboratori marchigiani hanno eseguito 913 tamponi, numero record in un giorno dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, riscontrando 149 nuovi casi di positività. Lo comunica il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Con questi nuovi contagi il bilancio delle persone e risultate positive al Covid-19 nelle Marche sale a 4.859 su complessivi 17.532 test. Salgano i dimessi e guariti a 645 pazienti. I ricoveri in terapia intensiva risultano 133. In area semi-intensiva 275, nei reparti non intensivi 495, indegenze post-critiche 204. I casi di isolamento domiciliare sono 2.455, mentre i casi di contatti in isolamento in casa con positivo contano 7.906. Di questi 4.791 sono asintomatici e 3.115 presentano sintomi. Aumentano a 1.116 gli operatori sanitari isolati. La Regione Marche aderisce ad una sperimentazione per la cura dei pazienti in fase critica con polmonite da Covid-19, secondo un protocollo sperimentale promosso dalla Regione Toscana. Dati clinici indicano che la somministrazione di plasma proveniente da pazienti immunizzati può essere applicata in maniera sicura a pazienti in fase acuta, con un miglioramento delle condizioni di salute e soprattutto minore mortalità. I pazienti riceventi saranno selezionati, secondo precisi criteri, dagli specialisti di riferimento. Un uomo di 55 anni, mentre puliva il bordo di una griglia, la cosiddetta bocca di lupo, nella sua abitazione Calcinelli di Colli al Metauro, è scivolato con il piede ed è precipitato per due metri, finendo all'interno del suo garage. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era cosciente e ha riportato lesioni alla schiena. Nel 55 anni è stato trasportato con l'eliambulanza a Torretti di Ancona per eseguire alcuni accertamenti. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco di Fano e i carabinieri. Sono fortunato ad avere una squadra forte come la vostra. Sono le parole del sindaco di Fano, Massimo Seri, che oggi ha voluto ringraziare il personale sanitario e augurare loro una buona Pasqua. Cari medici, cari infermieri, cari operatori sociosanitari, cari autisti, cari volontari sanitari, questa lettera è per voi. Dopo giorni di emergenza, di sofferenza fisica per così tante persone e di altrettanto sacrificio da parte vostra nel mettervi al servizio degli altri, sento forte il sentimento di iscrivervi ad ognuno di voi. Perché da giorni siete impegnati in prima linea, lavorando fino allo stremo delle forze e facendo della vostra professione una vera e propria missione di umanità. Siete il miglior esempio dell'Italia, che non si piega e si rimbocca le maniche al servizio del prossimo. E sempre in questi giorni, tanto è stato detto di voi nei media, vi hanno chiamato eroi, vi hanno considerato i soldati di una nuova guerra inaspettata e terribile. Una guerra silente, che fa poco rumore, ma che forse per questo è ancora più subdola e terribile. E voi, con altrettanto silenzio, da questo ci state difendendo con abnegazione, pazienza, coraggio. Ma questi sono giorni lunghi, pesanti, interminabili. Penso ad ogni singola professione e vi immagino, mentre sveggete le vostre mansioni. Il medico, che cerca soluzioni veloci e terapie efficaci. L'infermiere, che assiste i pazienti nel culmine della sofferenza. Le ambulanze, che corrono con estrema frequenza nella città semideserta. Ad ognuno il suo compito. Ma questa volta vi è stato chiesto di più. Un saluto, una preghiera, un ultimo sguardo che vale più di ogni altra consolazione. Perché se è vero che ogni professione ha pari dignità, in questo momento la vostra ne ha molta di più. E mai come prima d'oggi, andrebbe considerata come una vera e propria vocazione. E perché senza spirito di squadra, ogni azione risulta debole. Inadeguata, poco efficace, fine a se stessa. Ecco, io da sindaco posso oggi ritenermi fortunato ad aver avuto una squadra forte come la vostra. Per questo vi ringrazio. A nome mio e della città tutta. E poiché è Pasqua, vorrei augurarvela il più possibile serena, ricordando il suo significato etimologico, ovvero quello di passaggio, affinché si possa tutti vivere questo tempo difficile come un vero e proprio passaggio, della propria vita fatto di crescita e di speranza. Quando usciremo dall'emergenza, ne usciremo vincitori e più forti. Fano potrà dire grazie, grazie, grazie ad ognuno di voi. E a ringraziare medici e infermieri, oggi c'è stato anche il presidente della provincia di Peso Urbino, Giuseppe Paolini, il quale ha lanciato anche un invito a tutti i cittadini a non vanificare gli sforzi fatti fin qui e a restare a casa durante le prossime festività pasquali. È un sacrificio necessario, ha detto Paolini, se consideriamo l'immane lavoro che il personale sanitario sta facendo per salvare vite umane. Non possiamo cedere proprio ora, ha concluso il presidente, che si intravede una piccola luce in fondo al tunnel. E nonostante i vari appelli alla responsabilità dei cittadini, sono ancora tanti coloro che escono di casa senza una valida ragione. Infatti, nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno elevato altre 59 sanzioni. In totale sono stati oltre 1.400 i controlli a persone e più di 450 a quelli eseguiti negli esercizi commerciali. In quest'ultimo caso, senza però riscontrare illeciti. E in attesa che la Regione decida sull'obbligatorietà o meno delle mascherine da indossare per uscire di casa, vediamo quali sono le informazioni utili su come e quando indossarle. Le mascherine prima del coronavirus che conoscevamo al massimo erano quelle del carnevale o le associavamo istintivamente a carrozzieri o verniciatori. Mai e poi mai avremmo pensato di indossarle per andare dal pizzicagnolo dietro l'angolo e invece siamo diventati espertissimi di codici, sigle, filtri e tipologie. Ma come spesso avviene in questi casi, a cominciare proprio dal web e poi anche dalla sovrainformazione mediatica, ci si incomincia a perdere nel bailame totale di pareri, esperti, tecnici e chi più ne metta. Ed allora, per non prendere a bagli o ad arretta le fantasie più sfrenate della malinformazione, l'unico faro guida in questo mare agitato sono le autorità scientifiche come l'OMS, in questo caso, che il 6 aprile scorso ha emanato un documento ufficiale proprio sul loro utilizzo. Nel frattempo che chi di dovere decida se questi presidi di protezione diventino obbligatori o no, una cosa l'abbiamo capita, entreranno sempre di più nella nostra quotidianità. L'OMS divide nel suo documento le mascherine in due categorie, mediche o chirurgiche, quelle semplici a tre strati di colore azzurro o arancio per intenderci, e le mascherine di procedura, le famose FFP2 o 3, o mascherine filtranti da polveri, fumi e nebbie di liquidi aerosol, quindi inalabili, dove la sigla FFP sta per Filtering Face Peace. Quali mascherine dunque dobbiamo adoperare? Secondo l'OMS non è importante il tipo di mascherine, se si parla di prevenzione di comunità. Le chirurgiche vanno bene, a patto che, aderendo poco al viso, si faccia più attenzione alle altre norme di prevenzione, come lavarsi bene le mani e non toccarsi bocca, naso e occhi, e sanificare le superfici. Chi deve indossarle? Certamente chi ha sintomi, sicuramente chi tratta con persone positive, e chi è in contatto con persone in quarantena, o chi ha contatti con persone che frequentano luoghi o persone esposte al rischio. E ora veniamo alla domanda dalle 100 pistole. I sani, è giusto che le indossino? Allora, per l'OMS certamente sì, perché esistono anche le persone senza sintomi. Chi è nel periodo di incubazione, e che comunque vale il principio della prevenzione della diffusione del contagio. Dunque, riassumendo, l'OMS dice che la mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus. Se stiamo attenti alle distanze, all'igiene personale e ai contatti, quindi va bene qualsiasi tipo di mascherina. Non dobbiamo operare nessuno a cuore aperto con il rischio di infettarci. Dobbiamo semplicemente andare al supermercato. Un uomo è stato salvato da morte certa grazie all'utilizzo di un defibrillatore accaduto ad un 63enne che qualche giorno fa è rimasto vittima di un malore in casa. L'uomo aveva lamentato un dolore toracico persistente e per questo aveva allertato il 118. L'arresto cardiaco si è verificato pochi minuti dopo l'arrivo dell'ambulanza e questo ha consentito un immediato soccorso con il defibrillatore che ha interrotto l'aritmia, permettendo al cuore di riprendere e battere regolarmente. Ricoverato poi in ospedale, il 63enne è stato dimesso senza danni neurologici. Il Comune di Fano ha acquistato due sanificatori all'ozono che saranno utilizzati per i mezzi della Polizia Locale, della Protezione Civile e della Croce Rossa. A consegnarli alla comandante della Polizia Locale a Narita Montagna e al presidente del Cibiclub Mattei Savario Livi è stato questa mattina il sindaco di Fano Massimo Seri. Il macchinario è utile, facile e rapido in quanto per la completa sanificazione di un'auto ci vogliono soltanto 15 minuti, 30 per i mezzi più grandi come furgoni o ambulanze. L'apparecchio inoltre sanifica tutto ciò che si trova all'interno del veicolo comprese le divise di agenti e volontari. Ancora solidarietà legata all'emergenza sanitaria. Questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano è arrivato un carico di 230 uova pasquali come dono per il personale sanitario. Per tanti medici e infermieri impegnati nella lotta contro il coronavirus sarà una Pasqua difficile. Lo sarà ancora di più per tutti i pazienti ricoverati nei nosocomi. A portare un po' di dolcezza tra i reparti ci hanno pensato la Proloco di Fano e la cooperativa Tre Ponti in collaborazione con il Conad Flaminio e Sant'Orso e la protezione civile che oggi hanno consegnato 230 uova di cioccolato al Santa Croce di Fano. Un piccolo simbolo per ringraziare tutto lo staff per quello che stanno facendo per la comunità, ha commentato il presidente Gino Bartolucci. Speriamo possa fargli sentire il nostro supporto e la nostra gratitudine. Questa mattina all'ingresso dell'ospedale è arrivato il primo carico a bordo dei furgoni del Cibi Club Mattei, un gesto di vicinanza dunque nei confronti di chi sta soffrendo e di chi è impegnato incessantemente da oltre un mese in questa lunga battaglia. Ci hanno chiesto in pratica un supporto e noi volentieri abbiamo collaborato con loro. Siamo andati questa mattina a ritirare le uova alla Conad di Via Togliatti e adesso siamo qui per distribuirle. In pratica, come vedete, le più grosse andranno direttamente nei reparti e poi in pratica le piccole, tutti i dipendenti che passeranno presto a smarcare il servizio, l'entrata sia per l'entrata sia per l'uscita, hanno ritirato un uovo. La Proloco Fanum Fortune, invece sempre pronta ad aiutare il prossimo nei momenti di difficoltà, continua a dimostrare vicinanza al territorio con iniziative di solidarietà. Volevamo fare un gesto simbolico fatto con tutto il cuore per ringraziare tutti i medici ed infermieri che comunque aiutano tutta la comunità in questo frangente. Grandi, medie e più piccole, le uova di Pasqua hanno fatto bella mostra di sé per circa un'oretta nel piazzale antistante al Santa Croce. A riceverle in rappresentanza dello staff sanitario è stata la dottoressa Cristiana Cattò. Anche se con le mascherine i sorrisi non si vedono, ma ringraziamo veramente di cuore la cooperativa Tre Ponti, la Proloco, la Conad e anche la protezione civile sempre così vicina a noi per questo gesto generoso e che dona un attimo di felicità agli operatori e ai pazienti presenti nei reparti. Grazie. E decine di uova di Pasqua sono state consegnate al Santa Croce anche da Spazio Conad e dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Colli al Metauro. Questa attenzione e solidarietà ha detto il direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo, ci riempie il cuore e allieterà per qualche momento le nostre giornate in attesa che questo virus venga sconfitto. E da Vallefoglia il sindaco Palmiro Occhielli annuncia altri 39 mila euro di buone spese per chi ne ha bisogno e la distribuzione delle mascherine a tutte le famiglie entro la prossima Pasqua. Vorrei aggiornarvi della situazione del coronavirus nella città di Vallefoglia che come comprenderete i sacrifici fatti finora sono importanti sono ridotti i ricoveri nei reparti infettivi sono ridotti i numeri del contagiati perché stare a casa vuol dire evitare i contatti con altre persone. In secondo luogo vorrei aggiornarvi che la Giunta Comunale ha deciso di prorogare i termini per altri 39 mila euro di buoni per le persone che hanno necessità. Vorrei ringraziare i dipendenti comunali la struttura di protezione civile e gli scarabinieri perché in soli due giorni hanno consognato a 250 persone la prima transe dei buoni in spesa da oggi partirà la consegna delle mascherine per ogni nucleo familiare abbiamo istituito un conto corrente sulla protezione civile nella città di Vallefoglia in cui si può donare chi vuol donare per le persone bisognose e contiamo di distribuire tutte le mascherine a tutti i nuclei familiari entro le feste di Pasqua. Vorrei ringraziarvi per tutto quello che è stato fatto vorrei ricordare che anche per le feste di Pasqua bisogna stare a casa colgo l'occasione per augurare buona Pasqua stiamo tutti a casa e chi vuole contattare direttamente il sindaco in questo momento difficile può chiamarlo direttamente al 338-8460-162 Dopo Fano anche Colli al Metauro ha dato la disponibilità agli esercizi commerciali di curare e riordinare le tombe per conto dei familiari ritengo sia importante afferma il sindaco Stefano Aguzzi andare incontro al desiderio delle famiglie che oltre al dolore non hanno la possibilità di stare vicino ai loro defunti in questo modo ha aggiunto il sindaco nonostante il mantenimento della chiusura al pubblico continueremo a dare dignità ai vari sepolcri e adesso andiamo invece a Senigallia dove ci sono dei volontari che si prendono cura degli animali che sono in quarantena perché ovviamente lo sono i loro proprietari e questi volontari si prendono cura di questi amici a quattro zampe facendo loro fare qualche passeggiata il coronavirus continua a far paura a chi possiede un animale domestico si preoccupa per la salute del proprio cane o del proprio gatto così a rassicurare tutti i padroni c'è l'associazione nazionale medici veterinari italiani gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus confermano i medici lo dicono tutte le autorità sanitarie mondiali ricordando però una misura di ordinaria igiene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo ogni contatto con il proprio animale inoltre l'associazione dei medici veterinari consiglia ai padroni che possono risultare positivi al covid-19 che sono in quarantena anche volontaria di tenere con sé gli animali da compagnia certo è che per chi non possiede uno scoperto fargli fare la sua sgambatina quotidiana diventa un problema ed allora si moltiplicano in queste terribili giornate segnate dall'epidemia le iniziative di volontariato anche per gli amici a quattro zampe come quella dell'associazione senegalese sguinzagliati e dei volontari dell'associazione nazionale dei carabinieri che nell'ambito di un protocollo sottoscritto con il comune di Senigallia hanno attivato un servizio che prevede lo svolgimento della passeggiata quotidiana con personale esperto e qualificato la ricerca di stalli e affidi per gli animali di cui le famiglie non possono più prendersi cura il reperimento in caso di necessità di cibo e medicinali inoltre anche l'accompagnamento dal veterinario di fiducia e il supporto nell'eventuale somministrazione di farmaci il servizio può essere richiesto via whatsapp scrivendo al numero 339 7110354 tutti i giorni dalle 9 alle 19 è davvero molto bello affermato il sindaco di Senigallia Mangialardi vedere come la nostra comunità in questo momento così difficile per tutti sia capace di stringersi intorno a chi ha più bisogno non trascurando attività come queste che rivestono una notevole importanza per quanti condividono la propria vita con un animale domestico e soffrono nel non poter adempiere alle sue esigenze e necessità e adesso prima di salutarci chiudiamo il telegiornale facendo gli auguri e le congratulazioni a Lucrezia Arcangeli di Fano che ieri pomeriggio si è laureata in psicologia clinica e della salute all'Università d'Annunzio di Chieti Pescara per le restrizioni ovviamente dovute al coronavirus anche Lucrezia ha dovuto discutere la sua tesi via internet non sono mancate però le foto di ritto con la famiglia la corona dall'oro e un bel mazzo di rose rosse e con questo chiudiamo qui questa edizione del telegiornale grazie per essere stati con noi ci vediamo domani mattina alle 7.45 con Occhio e Giornali la rassegna stampa arrivederci grazie a tutti grazie a tutti